Sono entrati, infatti, ma... Cioè, persino troppo onore di vedere i fratelli Bonifaz, ormai che stanno sulle pagine dei giornali sempre. Siamo venuti innanzitutto per ascoltare le parole della presentazione dell'età del loro e dobbiamo svelarvi che siamo stati invitati non troppo tempo fa da Milodana per accompagnarlo su alcune musiche. Noi abbiamo accettato di non farlo. Eh sì, tutti lo aspettavano. E quindi non possiamo naturalmente farne le veci perché capite bene la statura dell'artista di cui stiamo parlando è irraggiungibile. Non ci basteranno cent'anni. Sto rimasto. Venite davanti. Allora io mi risiedo e non ho detto nulla. No, Densan, venite davanti. Dai, venite voi qua. Venite, venite. Facciamo un applauso, lo si accorgere con un applauso. Sì, bravo. Io per il momento... Grazie. 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 mi vedeva il mio ma adesso ci siamo scopriuti io sono sordo ma visto guarda ora vanno a fare adesso sicuramente stai sinistra si sono scopriati ieri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti